Ciao a tutti. E' un momento di grazia. Io mi sento indegno ad essere qui a testimoniare un dono prezioso che Dio ha fatto a questo peccatore che vi sta parlando. Io ho conosciuto Nuccia per causa di questa persona che padre Pasquale ha citato, Maria Spasari, nostra collaboratrice da tanti anni, purtroppo per malattia non può essere qui tra noi. In occasione di una mia missione in Calabria, la prima missione che in nome e per conto di Radio Maria, in quanto responsabile per la promozione, la diffusione, la ricerca di volontari, di formichine, facevo in diverse regioni italiane, ultimamente anche in giro per il mondo, dove voi sapete che la famiglia mondiale di Radio Maria ormai ha 50 figlie in tutti i continenti. Questa missione in Calabria iniziava a Catanzaro. Arrivai, ricordo molto bene quel giorno, con più di un'ora di anticipo rispetto agli orari prestabiliti, concordati con Maria. E Maria mi disse, Federico, abbiamo il tempo. A Catanzaro Sala c'è un'ammalata che ti ascolta lì a radio, gradirebbe conoscerti. Ecco il primo dono di libertà che Dio mi ha dato. Potevo dire, Maria mi spiace, sono stanco, dobbiamo prepararci, salutamela tu, gli voglio bene comunque. Potevo dirlo, no? Invece ho detto, sì, andiamo. È iniziata una parte importante della mia vita. Con quell'incontro, in quella che io ho definito, quella casetta che ancora ieri sono andato a rivedere, in ristrutturazione, oggi, allora, l'ho detto anche in radio, tanti l'avranno sentito, la piccola Nazareth, la piccola Betlemme del tempo moderno. Io sono affezionato a quella casa. Ma ancora di più a lei. Perché lei, risentendo il testamento spirituale, rileggendo il testamento spirituale, quando, attraverso i nostri microfoni, per opera della nostra collaboratrice Maria Spasari, quella notte trasmettemmo quel testamento, risentendolo e rivivendolo oggi, per rispondere alla domanda provocatoria che mi ha fatto Padre Pasquale, qual è l'emozione? L'emozione è quella di essermi trovato, io, piccolissimo, in una realtà più grande di me, che non ho valutato nel suo valore, nel momento contingente, in quei circa tre anni che ho condiviso con lei, di notte a notte fonda. Lei, disse, Federico, la nostra trasmissione, chiamiamola Beati gli Ultimi, Ecco l'emozione, Padre Pasquale, Beati gli Ultimi, e io mi sono sentito e mi sento tuttora ultimo, davanti alle grandezze di Dio. Una frase sua che spesso mi ripeteva quando ci telefonavamo, magari privatamente, ma anche quando dialogavamo pubblicamente, dai microfoni di Radio Maria, lei da casa sua col telefono, io la chiamavo e la mandavo in onda, in diretta. Quante volte mi ha raccomandato, Federico, ricordati, servi inutili siamo, abbandonati alla volontà di Dio. Oggi ci siamo, oggi siamo utili per un certo servizio, domani potrebbe essere tutta un'altra cosa. Ti prego, ricordati, servi inutili. La seconda emozione, che in questi anni mi aiuta a vivere i problemi, le gioie, le sofferenze, che ciascuno di noi sta portando avanti. Dunque, il testamento spirituale è stato pietra miliare per migliaia, per non dire milioni, di sofferenti, non solo in Italia, in Canada, negli Stati Uniti, in Germania, che ci ascoltavano, e scrivevano, testimoniamo quante lettere, io manderò tutto a padre Pasquale, tutto ciò che io ho a disposizione lo manderò a lui, perché ne faccia la debita raccolta, il debito uso. Queste sono le emozioni che il testamento spirituale di questa creatura hanno lasciato nel mio cuore. Certo, avrei tantissime cose da dire, ma, ecco, mi fermerei qui, perché abbiamo altri momenti da condividere insieme e mi permetteranno, magari, di ricordare altri aspetti del rapporto che io ho avuto con Nuccia e ringrazio Dio. Ringrazio Dio. Nuccia è stato uno dei momenti importanti non solo della mia vita personale, perché io passo, ma lo strumento di evangelizzazione rimane. E perciò Nuccia è stata strumento, le parlerò dopo, una conduttrice anomala. Ne parleremo dopo. Grazie. Grazie. Grazie.